Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura un'ampia pagina di cronaca. Partiamo da Chieti, polizie e guardie di finanza hanno scoperto tre bande dedicate allo spaccio. Gli investigatori si sono serviti anche di agenti sotto copertura e dopo un anno e mezzo di indagini hanno arrestato 25 persone in un blitz che si è tenuto questa mattina all'alba. Tra loro anche un capultrà della tifoseria del Chieti Calcio. I dettagli nel servizio di Giuseppe Dintino. Questa sostanza è talmente forte che fa smascellare. Tre bande di spacciatori sono state sgominate dalla polizia e dalla guardia di finanza di Chieti. L'operazione antidroga Tallone d'Achille ha portato all'arresto di 25 persone, 5 di queste sono finite in carcere, 12 ai domiciliari e 8 sono sottoposti a obbligo di dimora. A quanto riferiscono gli investigatori, l'individuo in questione componevano tre gruppi distinti che si arricchivano mediante la vendita di stupefacenti. Il primo è stato definito gruppo albanese in quanto composto per lo più da persone di origine balcanica. Il secondo è il gruppo scalino che operava in note attività commerciali di Chieti Scalo. Il terzo invece è il gruppo pescarese. C'erano state delle segnalazioni che riguardavano questi personaggi che gestivano questi locali della Movida, Teatina, soprattutto di Chieti Scalo, che in qualche modo ci davano la sensazione che il denaro che loro guadagnassero non fosse strettamente legato all'attività commerciale da loro esercitata. Dopo un anno e mezzo di indagini che hanno visto anche l'utilizzo di agenti sotto copertura provenienti da fuori regione per non essere riconosciuti, in tutto sono stati sequestrati circa 73 mila euro, 32 chili di marijuana, 600 grammi di cocaina e 360 grammi di hashish. E quindi siamo riusciti, grazie anche all'apporto, come si diceva prima, degli agenti sotto copertura, che sono serviti proprio, e questo è il momento essenziale dell'indagine, a far decollare l'indagine nel momento in cui aveva dei tempi morti, perché ovviamente non potevamo più utilizzare le nostre battuglie sul territorio per acquisire quelle prove necessarie che poi sarebbero servite per il loro arresto, ma quindi bisognava dare un qualcosa di diverso e soprattutto qualcuno che non fosse del territorio. Le forze di polizia hanno voluto sottolineare come del gruppo scalino facevano parte anche diversi membri della tifosiria organizzata del Chieti Calcio, in particolare un noto capo ultrà che, secondo le ricostruzioni, controllava il territorio grazie al ruolo di leader della curva nero-verde. Lo Scalo è una periferia degradata, ha affermato il procuratore, e alcuni cittadini la ritengono una zona franca, ma per noi non è così. Noi abbiamo un po' la sensazione che Chieti Scalo sia stata considerata come una zona distaccata della città, ma in generale un po' della cittadinanza, un po' dalle istituzioni o un po' forse anche dalla stessa imprenditoria. Abbiamo avuto la sensazione che i cittadini di Chieti Scalo si siano sentiti un po' lasciati soli. Però volevo essere chiaro, per noi non è così. Adesso proseguiamo la pagina di cronaca, andando a Francavilla, dove questa mattina, attorno alle 9.30, c'è stato un tentato omicidio e ci racconta di più in diretta, proprio da Francavilla, da Valle Anzuca, Paolo Renzetti. Buongiorno Paolo. Sì, grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno a te, i nostri telespettatori. Siamo a Francavilla al mare, in via Valle Anzuca, tanto per intenderci a due passi dallo stadio comunale di Francavilla al mare. Alle mie spalle, potete vedere dalle immagini in diretta di Loris Bennato, c'è la casa dove questa mattina si è consumato questo grave fatto di cronaca, come dicevi tu, intorno alle 9.30. In casa di una giovane moldava di 33 anni si è presentato un albanese di 28. Il giovane, da come poi si è appreso successivamente, voleva iniziare a intraprendere una relazione con questa donna, di cui probabilmente si era invaguito al rifiuto della 33enne. È iniziata una discussione che poi è sfociata in una lite vera e propria con l'uomo, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine e dei carabinieri, in particolare della stazione di Francavilla e del comando provinciale di Chieti che stanno indagando. L'uomo avrebbe estratto un coltello colpendo per 11 volte la donna all'addome e dal torace. È subito scattato l'allarme perché in casa c'erano altre persone. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, oltre ovviamente ai carabinieri. La donna, la 33enne Moldava, che da qualche tempo era in Italia, viveva qui a Francavilla al mare, è stata trasportata in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale Santissima, annunziata di Chieti dove si trova attualmente sotto i ferri perché è in corso un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita perché le condizioni da come abbiamo apprese sono particolarmente gravi proprio per le numerose coltellate che la donna ha ricevuto all'addome e al torace. Contestualmente è iniziata subito la caccia all'uomo, a questo albanese, autore di questo gravissimo fatto. Poco dopo il giovane è stato fermato, è stato bloccato dai carabinieri, è stato portato presso la caserma della stazione dei carabinieri di Francavilla al mare per essere ascoltato, è arrivato anche il magistrato, in questi minuti dovrebbe essere trasferito presso una volta che il magistrato darà l'ok per il fermo di polizia giudiziaria, verrà trasferito presso la casa circondariale Madonna del Freddo. Noi a Freddo ci siamo recati proprio qualche minuto fa, proprio all'esterno della casa che ha le nostre spalle, abbiamo parlato con la madre della 33enne Moldava che però non ha voluto, e lo comprendiamo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni anche per il suo italiano molto molto debole. La donna ha detto che era qui in vacanza insieme all'altra figlia, erano venuti dalla Moldavia proprio per trovare la loro congiunta, la 33enne poi ferita dall'albanese, e ci diceva la donna che proprio in ospedale si è recata la sorella della ragazza ferita e ci diceva che sono in contatto telefonico e ancora in questi minuti è in corso l'intervento chirurgico per salvare la vita a questa donna. Contestualmente, come detto, proseguono comunque le indagini dei carabinieri, l'accoltellatore è stato fermato, per lui scatterà il reato di tentato omicidio. Per il momento è tutto, se non ci sono altre domande, Alfredo, io da Francavilla al Mare ti restituirei la linea. No, grazie, grazie a Paolo Lorenzetti per questo aggiornamento, naturalmente altre notizie nel corso delle edizioni del nostro telegiornale. Proseguiamo ancora con la cronaca, perché ieri sera è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio un 34enne di vasto per aver colpito con un coltello a serramanico i coniugi ferri con ferite giudicate guaribili in 10 e 25 giorni rispettivamente. L'episodio è avvenuto nei pressi del noto ristorante gestito dalla Coppia, ristorante che si trova a Punta Penna. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione per futili motivi. I coniugi sono stati subito soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale Sampio di Vasto. La donna è ricoverata presso il nosocomio e sarà operata per l'insorgenza di alcune complicazioni. L'aggressore, non nuovo ad episodi di violenza, si è presentato spontaneamente alla stazione dei Carabinieri. Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Torresinello a disposizione dell'autorità giudiziaria. E noi adesso proseguiamo ancora con la cronaca che ci porta all'Aquila. Furto al distretto sanitario di Pizzoli. Gnoti si sono introdotti all'interno del presidio asportando la cassaforte con all'interno circa 600 euro in contanti. Indagano i Carabinieri il servizio di Daniela Rosone. Furto nel distretto sanitario di Pizzoli, consumato, secondo la denuncia, tra il 30 agosto alle 14 e le 11 del giorno successivo. Gnoti si sono introdotti all'interno dell'ufficio CUP del presidio sanitario di Pizzoli, torno in parte, che si trova in via con l'emusino, portando via la cassaforte ancora tal muro, che conteneva, secondo le prime ricostruzioni, circa 600 euro in contanti, frutto del pagamento dei ticket e un fondo cassa. Secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, stanno indagando i Carabinieri, non ci sarebbero segni di effrazione nella struttura. La struttura, peraltro, non ha neanche un sistema di videosorveglianza che possa aiutare in qualche modo i Carabinieri nelle indagini. Ovviamente i militari hanno ascoltato il personale che opera nella struttura sanitaria, lo stesso personale che da anni chiede maggiori misure di sicurezza. Andiamo avanti, adesso voltiamo pagina, Torniamo ad occuparci di quanto accade alle naia di in attesa della riapertura dell'impianto. La CGL torna a chiedere garanzia ai gestori delle piscine e alla regione rispetto al futuro dei lavoratori. Vediamo. La CGL di Pescara esprime preoccupazione per la perdurante chiusura dell'impianto delle piscine e le naia di, ma soprattutto chiede che ci siano risposte concrete per i lavoratori, per gli ex lavoratori, che sono in attesa di risposte. Sono ormai trascorsi quasi due mesi dall'inaugurazione fatta l'11 luglio, dopodiché la struttura è rimasta ancora chiusa e lo è tuttora, per una serie di problemi legati soprattutto alla certificazione che era necessaria affinché quella struttura fosse agibile completamente. Ormai sono trascorsi due mesi e noi riteniamo che bisogna accelerare in maniera anche determinata per trovare due soluzioni sostanzialmente. Una è quella di riconsegnare la struttura alla cittadinanza e quindi affinché si riapra la struttura e i pescaresi possano fruire di quella opportunità che peraltro è unica nel territorio e non solo nel nostro territorio, due per dare una risposta a quei lavoratori che erano impegnati circa una trentina su cui al momento ci sono stati solo una serie di impegni verbali dichiarati nel corso del tavolo delle trattative, ma che ad oggi sono tutti disoccupati perché sono stati licenziati dall'azienda precedente e non hanno ancora una risposta e quindi sono in attesa di avere una ricollocazione. Per questo stiamo chiedendo una convocazione urgente di un tavolo perché riteniamo che bisogna passare dalla dichiarazione fatta finora a dei fatti concreti per dare risposte. Secondo voi quando verranno riaperte le piscine e le naia di? Dovrebbe essere la regione che ci dice quando riaprono quelle strutture. Ci aveva detto che sarebbero riaperte l'11 luglio ma siamo al 3 settembre e sono ancora chiuse per cui vorremmo capire noi quando riaprono le naia di e quindi quale sarà la soluzione per i lavoratori impegnati fino a qualche mese fa. Adesso ci spostiamo a Teramo. Gli asfalti sono ridotti a un colabrodo e l'amministrazione comunale redige un piano di interventi che stenta però a partire. Per questo ritardo il Movimento 5 Stelle attacca duramente uffici e dirigenti. Ci dice di più nel servizio Tania Bondici Castelli. Il piano asfalti per Teramo è pronto, redatto per la prima volta dall'attuale assessore Valdo di Bonaventura, stenta però a partire per problemi procedurali e burocratici. In città nelle frazioni limitrofe la situazione è allo stremo, con strade dissestate, buche pericolosissime, senza parlare dei marciapiedi sui quali ogni giorno si registrano cadute dei passanti. Il Movimento 5 Stelle attacca duramente l'amministrazione comunale per questi ritardi e punta il dito soprattutto contro gli uffici e i dirigenti tecnici incaricati dell'attuazione del piano. Le riceve ogni giorno, a proposito di asfalti, dei messaggi anche abbastanza drammatici. Certo, potrei farle vedere, anzi glielo faccio vedere il mio cellulare, questo messaggio che ho ricevuto proprio questa mattina di una signora, di una cittadina che abita in una piccola frazione vicino Teramo e parlandomi della sua strada, dicendomi che il sindaco si era impegnato a risolvere la situazione entro breve tempo, mi ha ricordato, se le vuole leggere, che c'è una persona malata, c'è un diabetico anche che è abbastanza grave e anche la signora che scrive è malata e dovesse succedere qualche cosa, l'ambulanza non può accedere in questa piccola frazione per com'è ridotta la strada. Quello degli asfalti non vuole essere un punto fisso dell'opposizione, assolutamente, è soltanto un problema reale che la città e i cittadini hanno. Si è un po' strumentalizzato anche un nostro post che diceva che volevamo la, tra virgolette, frase bruttissima, la testa di Valdo di Buonaventura, assolutamente, politicamente è l'assessore che risponde per l'operato dei suoi uffici, ma in realtà sappiamo che è stato gestito tutto male dagli uffici stessi. E intanto ricomincia la scuola tra qualche giorno? Intanto ricomincia la scuola, intanto tornerà il maltempo e intanto le buche che c'erano l'anno scorso sono aumentate e continueranno ad aumentare. Scende in difesa dell'assessore di Buonaventura la lista Teramo Vive, che ricorda lo sforzo fatto dall'amministrazione per rastrellare e reperire fondi per gli asfalti in una città ridotta economicamente all'osso. Gli interventi dunque ci saranno, ma è ancora incerta la data d'inizio e si sa bene che l'inverno non è un buon periodo per lavorare sulle strade. Adesso andiamo a penne, continua ad andare avanti l'iter burocratico per l'assegnazione di 12 milioni di euro destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento del nosocomio San Massimo. Proprio il Ministero della Salute ha annunciato che il decreto in questi giorni si trova al vaglio della Corte dei Conti. Il servizio di Vestina News. Mentre il Partito Democratico Nazionale cerca l'accordo per la nuova formazione di governo, quello provinciale di Pescara cerca la quadratura del cerchio intorno a quello che sarà il prossimo impegno, vale a dire il congresso che porterà il nome del nuovo segretario che guiderà i democratici della provincia adriatica, il circolo PD di Pene nelle scorse ore ha annunciato attraverso due documenti, l'uno del senatore D'Alfonso, l'altro del Ministero della Salute, la prosecuzione dell'iter burocratico sui finanziamenti di 12 milioni e mezzo di euro, chiacchierati da tempo, che serviranno per l'ammodernamento della struttura dell'ospedale San Massimo di Penne. L'iter burocratico non è completo, infatti, come si può leggere sui documenti, il Ministero della Salute, con decreto del 7 agosto 2019, ha individuato gli interventi di edilizia sanitaria e previsto la stipula di convenzioni da sottoscrivere con le regioni beneficiarie. Allo stato attuale, continua la nota del Ministero, il decreto è sottoposto al controllo da parte della Corte dei Conti e nel momento in cui terminerà l'iter amministrativo sarà cura del Ministero stesso informare le regioni interessate. Da tanto tempo, commenta il segretario del circolo PD pennesi Andrea Vecchiotti, si parla di questi ormai famosi 12 milioni, tanto che in molti ne hanno addirittura messo in dubbio l'esistenza. Tuttavia oggi registriamo, anche grazie all'attenzione dall'impegno dell'onorevole D'Alfonso, ulteriori passi avanti nell'iter per lo sblocco di questi finanziamenti, che permetteranno di intervenire sulla struttura del San Massimo, per renderla ancora più funzionale. Dopo le tante promesse fatte in campagna elettorale dalle forze politiche della destra, rigettate nei fatti dai ministeri romani e gli scippi alla viabilità dell'area vestina, finalmente una buona notizia. Come Partito Democratico va avanti i vecchiotti, continueremo a chiedere con forza e determinazione a tutti gli organi competenti investimenti nella struttura, nel personale e nella strumentazione operativi nel San Massimo, consapevoli che siano questi fattori a determinare la qualità di un servizio essenziale come quello legato alla sanità. L'iter burocratico purtroppo non è ancora giunto a termine. Si attendono buone notizie nei prossimi giorni, non solo per penne, ma per l'intero territorio vestino. La CNA ha presentato oggi a Pescara il premio nazionale Cambiamenti, giunto alla sua quarta edizione e che ha come obiettivo quello di dare dei riconoscimenti alle start-up che innovano. Vediamo. Quarta edizione del premio Cambiamenti, oggi la presentazione in CNA a Pescara. Quali le novità? La CNA Abruzzo parteciperà al premio Cambiamenti, che è un contest, una gara nazionale tra le migliori start-up appunto nazionali che si candideranno. La migliore start-up del 2018 è stata una start-up abruzzese con sede legale sotto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso e sede operativa in un laboratorio a rapino su un progetto di ceramica particolare, quindi mettendo insieme tradizione e ricerca. L'obiettivo di quest'anno è di fare delle animazioni territoriali, quindi la CNA sarà presente su tutti i territori, Teramo, L'Aquila, Pescara, Chieti e anche Avezzano, con delle tappe fondamentali di animazione, che si concluderanno nella torre binaria a Rocca San Giovanni con un evento che metterà insieme anche un'attività di laboratorio, di design thinking con delle imprese che si ragionerà sul ruolo delle nuove imprese e delle start-up. Si può vincere 20.000 euro di dotazione economica più la possibilità di partecipare a dei corsi gratuiti di formazione con player molto importanti e anche due anni di noleggio a lungo termine di auto, quindi questi sono un po' messi i premi in campo. In più CNA Abruzzo metterà in campo premi di servizio, quindi voucher di servizio a disposizione per i primi classificati. Come arriveremo a selezionare le imprese? Faremo delle tappe di animazione, in seguito coinvolgeremo sia l'università che una commissione tecnica per selezionare le migliori start-up. Le prime tre le candideremo al premio nazionale, quindi saranno le tappe intermedie. La città di Teramo celebra il cinquantesimo anniversario di Woodstock con l'arrivo di Leon Hendricks, fratello del grande Jimmy. L'artista terrà un concerto sabato 7 di settembre in Piazza Sant'Anna alle 21.30 dopo aver presentato un libro che racconta la sua folle vita. Sentiamo. Nel cinquantesimo anniversario del concerto americano di Woodstock, uno dei più grandi eventi musicali della storia, Teramo celebra questa ricorrenza con l'esibizione dal vivo di Leon Hendricks a Piazza Sant'Anna il 7 settembre prossimo. Un format che unisce musica e cultura, ideato dall'Associazione Equilibri Musicali e che farà sognare per una notte generazioni di persone al suono della chitarra di Leon, fratello del compianto Jimmy Hendricks. Siamo riusciti praticamente a contattare Leon Hendricks grazie al Fulvio Felisiano che è molto amico di Antonio Gambacorta e quindi noi abbiamo mangiato subito la foglia e abbiamo deciso per l'occasione di portarlo a Teramo. Qual è il programma della giornata? Allora il programma è semplice, siccome Equilibri Musicali tiene molto alla cultura, non solo musicale ma anche quella editoriale, presenteremo il pomeriggio il libro che ha scritto uno scrittore, Adam Mitchell, che si chiama Jimmy Hendricks, mio fratello, quindi il libro che è tratto da un'intervista di Leon sul fratello, poi il pomeriggio, dalla sera, dalle 9 e mezza, a Piazza Sant'Anna comincerà il concerto dove aprirà un gruppo di potenza, la Blue Cat Blues di Donato Corbo che tra l'altro è l'organizzatore della Connection Blues di Matera e poi dalle 10 e mezza in poi ci sarà per l'appunto il concerto di Leon Hendricks che verrà accompagnato dal gruppo di Fulvio Felisiano. Quanta gente vi aspettate e che pubblico vi aspettate? La figura di Jimmy Hendricks raccoglie abbastanza generazioni, diciamo, perché lui è rimasto sempre un po' l'artefice di quella che è la chitarra odierna, anche contemporanea, quindi io credo che ci saranno un bel po' anche curiosi perché Hendricks è comunque un nome, chiunque abbia a che fare con la musica, dal blues al rock, ha sempre un po' di curiosità riguardo a questo nome. A Lanciano arrivano le giostre per il tradizionale Luna Park delle feste di settembre in centro si perdono centinaia di posti auto e il terminal bus viene spostato fino al 16 di settembre al palazzetto dello sport. Vediamo. Giostra è a lavoro e Luna Park che prende forma nei due spazi distinti riservati ai giochi per grandi e più piccoli. Con le feste di settembre a Lanciano arriva il tradizionale Luna Park e gli autobus di conseguenza si spostano temporaneamente da Piazza D'Amico e dal terminal Memmo in Piazza Allegrino nel parcheggio antistante il Palasportulo ha stabilito un'apposita ordinanza dell'amministrazione comunale. Gli autobus turistici potranno effettuare la sola fermata per la discesa delle persone in Piazza D'Amico nell'area riservata ai bus. L'apertura dei due Luna Park è prevista per giovedì prossimo 5 settembre, chiusura il 18. Durante le giornate clou del 13, 14, 15 e 16 settembre, dall'ore 16 in poi, capolinea dei bus urbani saranno individuati in via Mario Bianco. I provvedimenti sono contenuti nel dettaglio dell'ordinanza 331 del 29 agosto 2019 con la cittadinanza pronta a sostenere i soliti disagi nel centro città. Meno parcheggi, rischio multa, viabilità che subirà i previsti rallentamenti, routine da anni nei giorni di festa. Il divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione è previsto dalle ore 2 del 2 settembre alle 24 del 18 settembre. In queste aree, Terminal Bus, Piazza Memmo, compresa l'area di parcheggio esistente nell'area adiacente, l'intersezione con via dei tribunali. Divieto di sosta anche per tutta Piazza D'Amico e in tutta l'area corrispondente a quella dei parcheggi a pagamento. Divieti di transito nelle seguenti aree, Terminal Bus, Piazza Memmo, strada d'ingresso sempre in Piazza Memmo per chi proviene da Via del Torrione. Dunque, il Luna Park prende forma nell'attesa di piccoli e grandi, momenti di gioia che alleggeriranno ovviamente qualche disagio ormai sperimentato da anni. Siamo così arrivati alla pagina dello sport che apriamo parlando di calciomercato di Serie B. Lo scambio dru di ventola col Cittadella e le cessioni di Marra, San Livorno e di Selasi alla Juventus Under 23 hanno chiuso il mercato del Pescara. Tante le operazioni fatte in questa sessione estiva, anche se è mancato il botto finale in attacco. Ci racconta tutto nel servizio Andrea Costantini. Il mercato si è chiuso con il puntello che mancava nel reparto difensivo, ma senza addizioni a quello d'attacco. L'ultimo innesto in casa Pescara è dunque Mirko Drudi, il difensore centrale che arriva dal Cittadella a titolo definitivo. La contropartita tecnica è Cristian Ventola che fa il percorso inverso e con la formula del prestito si aggrega alla squadra di Roberto Venturato. Una contropartita, ha tenuto a precisare ieri il presidente del Pescara Daniele Sebastiani in collegamento con la trasmissione replay di Ricorocchi, che non è stata Matteo Ciofani, il quale non è mai stato sul mercato, dove invece era Manuel Marras che sempre nella giornata di ieri ha lasciato il Pescara e ha firmato a titolo definitivo per il Livorno. Resta a Biancazzurro il portiere Elan Castrati, che era stato accostato con insistenza al Lugano. Il tecnico Zauri aveva chiesto tra le opportunità di mercato un giocatore d'attacco che facesse la differenza, ma la pedina non è arrivata. Lo stesso Sebastiani ha confermato che fino a ieri aveva sperato nel ritorno di Riccardo Sottil, che invece resta a Firenze. Antonio Di Gaudio del Verona era una opzione non sostenibile economicamente. Il baby Vincenzo Millico del Torino alla fine sembrava diretto al Chievo, ma l'operazione non è stata portata a termine in tempo utile. L'opportunità last minute è stata Enrico Brignola del Sassuolo, che poi ha scelto Livorno. E allora Zauri resta con un attacco nel quale gli esterni di ruolo sono Galano, Cisco e Di Grazia, più gli adattabili Bocic e Brunori. Quest'ultimo che resta più un centravanti, capace quindi di giocarsi anche il posto con Tuminello e Magnero. Zauri potrà anche lavorare, se lo riterrà opportuno, sul 4-3-1-2, laddove i trequartisti potranno essere Galano o Macin. Le operazioni dell'ultimo giorno, tra queste anche la cessione di Ransford Selassie, finito alla Juventus Standard 23, si sommano a quelle della scorsa settimana, con gli innesti di Macin, Masciangelo, entrambi i titolari con il Pordenone, e poi Ingelsson e Bocic. Pur essendoci un nucleo dello scorso anno, è evidente che il Pescara è cambiato tanto. Tra le partenze, quelle di maggior impatto sono del capitano Brugman e del bomber Mancuso. Tra gli innesti, i fiori all'occhiello, sono il regista Palmiero e l'esterno Galano, in attesa che Ciocev smaltisca l'infortunio. Tabi è rientrato all'Atalanta per risolvere problemi di natura fisica e a gennaio si capirà se il giovane Ivoriano potrà tornare in biancazzurro o meno. Nel frattempo, lo stesso Sebastiani si gode il successo sul Pordenone e aggiunge. Io ci mettere la firma a prendere due gol a partita e a farne quattro. O anche a vincerne una e a perderne l'altra. Significherebbe alla fine del campionato entrare nei play-off, quindi sarebbe già il massimo. Però, ripeto, c'è qualcosa sicuramente da registrare. I meccanismi. Questa squadra lo scorso anno giocava con un sistema un po' diverso. quest'anno è un po' più portata all'attacco. È chiaro che gli stessi giocatori devono ancora mettere a punto bene quelle che sono le direttive del mister. Però siamo alla seconda partita, quindi c'è tempo per farlo. Facciamo il punto sul mercato anche per quanto riguarda il Teramo Mercato che si chiude con il colpo Costa Ferrera che va a rinforzare una linea mediana di altissimo livello. Arrivano anche Florio dal Pordenone e Valentini dalla Fermana salutano invece Persia e Infantino. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il mercato del Teramo si chiude con il colpo Pedro Costa Ferrera contratto biennale per il centrocampista ex Lecce che torna in bianco-rosso a distanza di qualche stagione e completa una batteria in linea mediana davvero di altissimo profilo. Costa Ferrera non è mai uscito dai radar bianco-rossi da quando l'affare in estate sembrava ad un passo dalla definizione prima dello stop temporaneo. Questo perché il portoghese ha voluto attendere una chiamata dalla Serie B mai arrivata e a quel punto il progetto Teramo si è fatto troppo coinvolgente per poter dire di no. Con Arrigoni, Bombaggi, Viero, Santoro, Mungo, Lassic e Minelli Tedino avrà solamente l'imbarazzo della scelta. Insieme a Costa Ferrera nelle ultime ore di un mercato interminabile sono arrivati anche l'esterno destro Filippo Florio dal Pordenone che va ad occupare una casella ancora sguarnita ovvero quella dell'alternativa a Cancellotti che finora non c'era. Il ragazzo classe 96 arriva a titolo definitivo così come il portiere Mattia Valentini che tuttavia, e passiamo alle cessioni dell'ultimo giorno fa il percorso inverso rispetto ad Angelo Persia che saluta il diavolo passando la fermana. D'altronde l'arrivo di Costa Ferrera avrebbe ingolfato troppo il reparto senza un'uscita sempre nella stessa zona di campo. Insieme a Persia davanti saluta anche Saveriano Infantino e lo fa dopo sei mesi durante i quali aveva contribuito con nove reti alla salvezza del Teramo nella scorsa stagione. Anche per lui si tratta di un ritorno a Carrara dopo una trattativa lunga e terminata solamente a pochi minuti dal Gong. Con la partenza di Infantino saranno in cinque a giocarsi davanti una maglia da titolare K, Martignago, Magnaghi, Cianci e Birligea sul quale l'allenatore e la dirigenza scommettono molto. In difesa invece resta Ivan Speranza lusingato dal Pineto nei giorni scorsi ma ancora inorganico. L'acquisto di Jotti toglie ulteriormente possibilità di giocare al difensore che tuttavia sembra comunque volessi giocare le carte durante la stagione. Infine altre due partenze che riguardano due giovani Bregasi e Celentano. Il primo centrocampista rimane in Abruzzo e vestirà la maglia del Chieti mentre il secondo esterno di difesa va sempre in Serie D mandando a rinforzare il Cerignola. Una rosa totalmente ricostruita dunque quella del Teramo che adesso ha una squadra 1 e una squadra 2 con le coppie in ogni reparto per provare a giocarsela alla pari con le grandi del Girone C. Dopo la sosta forzata adesso c'è il banco di prova Avellino sabato sera per iniziare la rincorsa ai primi posti della classifica. Lasciamo il calcio adesso. È stata la locale sezione dell'Unione Italiana tiro a segno ad organizzare all'Aquila i campionati italiani di una nuova disciplina denominata Target Sprint. Vediamo il servizio. Un circuito di 400 metri di corsa campestre da ripetere tre volte e due sessioni di tiro con carabina d'aria compressa verso 5 piattini posti a 10 metri. E' questo il Target Sprint una nuova specialità introdotta dalla Federazione Olimpica di Tiro a Segno che nello scorso fine settimana ha visto disputare al Centro Sportivo Universitario Centicolella dell'Aquila il campionato italiano 2019. Titolo tricolore conquistato tra le donne da Francesca Macali di Candela che ha avuto la meglio su Nora da San Martino di Lucca. Tra gli uomini la vittoria è andata all'alto atesino di ora Georg Unterpertinger che ha superato un altro lucchese finito al secondo posto Lorenzo Chiocchetti. Dopo una stagione, anche questa stagione lunga con tante gare anche internazionali che comunque sono andate anche bene per cui l'obiettivo è arrivare prima una gara si vince o si perde sul poligono quello è così poi chiaramente i 400 metri sono una distanza tosta e farle tre volte bisogna essere preparato fisicamente in un certo modo ma il tempo, la differenza la si fa sul poligono. Il tiro al segno essendo statico ha bisogno anche di una certa preparazione fisica questo si raggrupperebbe in un modo un po' più divertente anche in una disciplina sportiva di convincere i tiratori di fare anche una preparazione atletica qui si unisce le due cose si unisce il dovere di fare una preparazione atletica con il divertimento di una disciplina siamo in crescita, leggera crescita come ogni nuova disciplina ha bisogno del tempo necessario di essere introdotto io penso che con un po' di pubblicità anche nei mass media anche a voce così chi ha partecipato a delegare sicuramente in futuro avremo dei numeri molto più alti Grande soddisfazione per l'Unione Italiana Tiro al Segno dell'Aquila che ha organizzato l'evento un traguardo che gratifica chi come il sindaco di Silvia Andrea Scordella in passato è stato presidente della sezione aquilana Questo è stato un percorso che è partito dopo il 2009 sulla fase di ricostruzione appunto della post terremoto noi siamo ripartiti veramente con una struttura nuova e abbiamo fatto tantissimo in questi anni con la realizzazione di queste nuove strutture qui sul centro sportivo universitario a cui ringraziamo anche il professor Bizzarri per la possibilità di immetterci in questo bellissimo scenario noi abbiamo puntato molto sull'organizzazione degli eventi dunque la finale nazionale ma anche le gare regionali che hanno riportato finalmente l'Aquila all'attenzione del tiro al segno abbiamo fatto una scommessa noi tutto sommato perché in un mese abbiamo avuto questa incombenza di realizzare un circuito e un poligono di tiro a varia compressa naturalmente all'aperto e con l'aiuto e la buona volontà dei soci volontari che hanno rinunciato anche alle vacanze perché insomma l'agosto è un mese caldo in tutti i sensi siamo arrivati a questo nuovo traguardo è la prima finale in Abruzzo tra l'altro e si disputa a livello nazionale per questo quindi ringraziamo anche l'Unione Italiana Tirassegno per questo riconoscimento importante e noi ne saremo all'altezza è tutto per questa edizione del TG6 io vi ringrazio per averci seguito se volete trovate in demanda i nostri servizi sul canale Youtube dell'emittente sul sito www.tv6.it vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi www.tv6.it